per Insigne potrebbe rientrare sul destro davanti a sé Richards che tiene il mezzo per Caglione la rotta di Caglione ancora Insigne a fronte Hernanes, palla sul destro, cerca dentro Caglione, posizione regolare Caglione, José, Maria, Caglione apertura a sinistra, Insigne con l'esterno, serve Amsic che guarda in mezzo cerca Caglione here's Insigne that's a better ball in from Insigne and Caglione here Higuain outside of the boot what a pass and the volley what a goal Caglione breaks the deadlock in the twelfth minute and that is absolutely stunning from Napoli in the twelfth minute and that is absolutely stunning from the twelfth minute and that is absolutely stunning from the twelfth minute Filtrante per Insigne si chiude l'1-2 Insigne a giro sul secondo palo Caglione Attenzione Higuain Mertens prova a destro Donnarumma in Caglione in Caglione in Caglione Caglione in Caglione Mertens Wow yes Giorginho non si muove nessuno linea del crotone molto appiattita dentro la sua area di rigore in segna per Caglione Porta poi non tira ma preferisce la soluzione ravvicinata verso Mertens cross di Mertens verso Caglione José Maria Caglione C'è Napoli che tenta di farlo ancora una volta con Mertens il suo cross in mezzo profondo per Caglione che calcia in porta Caglione Caglione ова è una volta in l'espanco per calciare cerca Gagliecon 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 E c'è un'opportunità che è stato preso At the far post, Jose Callejón. Aumentase la diferencia, 0-2 para...